Io penso soltanto che queste tragedie storiche che noi ricordiamo ci devono portare a fare delle riflessioni. Per esempio la riflessione che suscita in me, Marcinelle, è che non bisogna partire, non bisogna emigrare e dobbiamo lavorare a non far più emigrare i nostri giovani. Il mio pensiero va all'oro quando penso a tragedie come quelle. E ricordiamoci anche che la tragedia di Marcinelle è una tragedia che riguarda due stati che si sono messi d'accordo e si sono scambiati il carbone in cambio di vite umane. Rappresentano accordi che in passato sono stati fatti e che hanno purtroppo causato la morte di tanti nostri concittadini. Il mio saluto va alle famiglie di quelle vittime, i loro figli, alcuni sono in Belgio, altri in Italia e sono tornati nelle regioni del sud del mio sud. E mi ricordano sempre che dobbiamo fare di tutto per non far partire i nostri giovani perché quando parti e vai a lavorare altrove trovi delle condizioni non sempre dignitose. Grazie.